Stasera mi sento l'argento vivo addosso, d'altra parte Kripztak e sono grazie al mio carattere giuviale che riesco ad affrontare ogni stagione della vita, anche l'inverno più rigido. Purtroppo Petretek nel nostro rapporto l'unica cosa rigida è l'inverno e poi non mi dici ma è niente di carino. Sei brava a stirare. Dopo questo complimento Petretek per farti perdonare portami fuori a cena, potremmo andare al ristorante egiziano. No, no, il ristorante egiziano ha dei siti a forma di piramide. Non è una sensazione molto piacevole.